L'Italien appella un centro d'accueil, è in effetti una prisa di detenzione per persone come tutti gli altri che hanno dei diritti. Oggi siamo venuti a dimostrare la nostra solidarietà in quanto collettivo sindacale che organizza i lavoratori migranti qui in Belgio per dare la nostra solidarietà alle organizzazioni, le associazioni, i sindacati come l'Unione Sindacale di Base che promuovono questa manifestazione a Venezia davanti al centro d'accoglienza per ricordare che ogni morto è un enorme buco nella nostra civilizzazione e che non possiamo permetterci di gestire la crisi migratoria come lo Stato italiano e l'Unione Europea sta gestendo. Significa chiudere dentro delle prigioni che si chiamano centro d'accoglienza, delle persone che stanno attendendo di sapere se avranno la possibilità di avere dei diritti nel nostro territorio europeo.